Buonasera signore e signori, sono AC88, benvenuti quest'oggi con la nostra tredicesima Nasty Deluxe Challenge Ci troviamo oggi ad affrontare Marzia dopo aver perso Cappero, ma con l'aggiunta di un tonno in più in squadra Mi ero sbagliato infatti nel soprannominare Bronzor, perché un tonno già ce l'avevamo E quindi ecco, quest'oggi ho preso Bronzor in più Eeeh, che cosa sei? Mamma mia, buono, buono, buono Allora, contro Lucario mandiamo immediatamente tonno Uh, resiste, se fallisse, no, ecco, perfetto Eeeh, allora a questo punto mandiamo il nostro vero tonno, usiamogli un paralizzante Sperando, ecco, che resista, in realtà non resiste Usiamogli un parassisteme e non fallisce, perfetto Anche il tonno vero e proprio viene mandato a K.O. A questo punto mandiamo vaniglia, usiamogli una scintilla Perfetto, l'abbiamo anche paralizzato Quindi a questo punto io manderei gratis Vediamo un po' che Usiamogli psico raggio Non è facile, ecco, così, però Ci devo provare Ci devo provare, ci devo provare, ci devo provare Ci devo provare, perfetto Adesso mandiamo Farina Usiamogli un ruota, fuoco E Lucario viene mandato a K.O., incredibile Grande colpaccio di Farina Adesso contro Machok Sfida tutta Muscoli qua Rocciotomba, dai che resiste Perfetto, usa forza, dai che resiste Nooo, Farina viene mandato a K.O. Il nostro Pokémon di tipo fuoco Viene mandato a K.O. Adesso andiamo Garofalo Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare Siamo in confusione Dai Garofalo, usa forza Merda Cavolo Oddio Mamma mia Dai Sì Siamo rimasti soltanto con Vaniglia Ma ce l'abbiamo fatta da sconfiggere Marzia Perfetto Quindi il nostro team verrà rivoluzionato Guardate qua Cinque elementi abbiamo perso Cinque fottutissimi elementi E vai Perfetto La mossa contiene Assorbi Pugno E Non potremmo insegnarla a nessuno Se non per ora Vaniglia Che ecco L'ultimo Pokémon che è rimasto in squadra E a questo punto A questo punto dobbiamo Andare nel box Depositare immediatamente tutti gli altri Pokémon Ma prima Troveremo Lusinda Che ci dice Ciao Nazrach Mi dareste una mano Quei criminali del Team Galassia Mi hanno rubato il Pogodex Mi serve il tuo aiuto per riprendermelo Aspetterò davanti al deposito Ok buonasera signori e signori Rifaccio la intro Perché cosa è successo È andata via la luce Il giorno in cui stavo registrando E Ovviamente Camtasia Ha salvato il salvataggio Fino a qua Praticamente Preciso in questo punto Quindi Ora che sono riandato a registrare Ho visto il file Che aveva salvato Camtasia Almeno fino a qua Allora cosa ho fatto Ho risfidato Marzia Perché Ovviamente L'ultimo salvataggio Era davanti a lei Ho risfidato appunto La Capoelestra E come al solito Si è salvato soltanto Vaniglia Come vedete Tutti e quattro I Pokémon Sono mandati KO E quindi Riprendiamo la nostra Naziluk Challenge Dopo aver sconfitto Appunto Marzia E aver rincontrato Lusinda Che ci dice Che il team Galassia Gli ha rubato il Pokdex E dobbiamo recuperarlo Andando Ad aiutarla Insieme a lei Quindi La prima cosa da fare È andare nel Pokémon Pokémon Center E mandare Nel box Ovviamente I Pokémon Che sono De Chueduti Quindi A questo punto Mandiamo Garofano Che hanno mandato Qua Ovviamente Monferno È vero Ci hanno anche Porca Sozza Ci hanno anche Gli strumenti Strumenti Ah si bene Si può fare da qui Perfetto Strumenti Si Tonno Dai Mandiamolo qua E Gratis Che ovviamente Era quello L'ultimo Che ci hanno dato Viene mandato qua Perfetto Allora Nessuno ha strumenti Quindi Prendiamo A questo punto Spago Che viene Rimesso in squadra La Nazruk Challenge È così È così Mandiamoci Tonno E poi Per il resto Terrei tutto Nella squadra Sì Cioè Nella squadra Nel box Ok Questo quindi Il team Dopo aver affrontato Marzia Vaniglia Spago Spago E tonno Tonno Che mosse C'ha Vediamo Un po' Il noise Esclusiva Extrasenso Stordiraggio Con poco Deve rascere Ruotafuoco Pestone Quanto c'ha Di velocità 43 Bah non male Dai E poi Vaniglia Allora A questo punto Diamo Non voglio Qua Volevo dare Ce la faccio Il Rapida Artiglia Tonno E il Condividi Esperienza A spago Ok A questo punto Andiamo Scusatemi Andiamo A aiutare Lusinda Tu 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 Mamma mia Abbiamo perso Praticamente La Quattro quinti Del team Non male Dai Mettiamo davanti Spago E E questa La Naziluk Challenge Purtroppo Altrimenti Cioè E così E divertente Altrimenti Se no Non sarebbe La Naziluk Challenge Non sarebbe Divertente Se no Tutti Tutti Ce la farebbero Quindi Riprendiamo Dai Su Andiamo ad affrontare Il team Galassia Parte La sfida Allora Zubart Due Zubart Un Cleferi Spago Che è a livello 20 Un po' ridicolo Però dai Oh Oh Grande 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 Spago Grande Grande Cleferi Ragazzi Sei Inutile Così Lì già Mosse Usa Fascino Ovvio Ovvio Krogank Usiamo gli Ruota Fuoco Quelli che mi Fanno più Paura Canto Ha addormentato Zubart Mi fa male Bravo Capisci Bravo Bravissimo Cadabra Attenzione Usiamo Di nuovo Psicotaglio Oh Grande Un brutto colpo Anche Bravissimo Zubart Dorme Usiamo gli Un ruota Fuoco Psicotaglio Di nuovo Di cadabra E Stanchi Usiamo gli Ruota Fuoco Usa Riflesso Bravo Usa Riflesso Bravo Bravo Ottima Schermo luce Non ha senso No Potete attaccarlo A questo punto Finto attacco Perfetto Falliscono tutti Tranne Spago Che ragazzi Sale a livello 21 Incredibile L'esordio di Spago Ah Accidenti I nostri Pokémon Sono imbranati Dovremmo prendere I due uomini Della nostra parte Umf Ma chi se ne impote Del Pokédex Il team Galassia Avrà tutti i Pokémon Del mondo Sotto controllo Tieni Prenditi pure Il tuo Pokédex Quelle cose Che avevano nel depo Sano già Scusate a Pratopoli Quindi dico Avrete ciò che vi aspetta E correrete come noi Recute Perfetto Lucinda Che succede Perché il team Galassia Si comporta Come se tutto fosse Di sua proprietà Non lo so Nazeruk Grazie di cuore Senza il mio Pokédex Sarei perso Mi è indispensabile Per aiutare il Prof Rowan Con le sue ricerche Allora Nazeruk Che cosa farai adesso Io stavo pensato Io stavo pensato Di andare a Villa Pokémon Supercorsi Dentro 12 Probabilmente Ci andrò anch'io Anche perché Ecco Siamo rimasti Un po' senza Pokémon Ne abbiamo soltanto 3 Più Aonun Geodud Un uovo Un matchup Nel box Quindi non sono moltissimi Ma Vabbè Sono questi Comunque Bellocchio Non è niente Quello che mi preme più di ora È il comportamento criminale Il team Galassia A me mi preme che Sotto 3 Pokémon Nella mia squadra A me preme questo Comunque Entriamo dentro Al deposito Vediamo un po' Cosa c'è Bellocchio Un perosiciana Che per adesso Non possiamo dare La caccia a fuggitivi Cosa c'è qui Bellocchio Ah L'M Volo Buono 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 Purtroppo non abbiamo Un Pokémon A cui possiamo insegnarlo Però va bene lo stesso Ok Ciao Bellocchio Noi Ci dividiamo Qua non c'è niente Abbiamo già recolto Lo strumento E quindi possiamo andare Giù verso Pratopoli Ok Curiamo la nostra squadra E ovviamente Il Pokémon Center è qua Ok Tu 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 Ok Salviamo un secondo solo Che salvo con la Roma Non vorrei che mi Crashasse di nuovo Ok A questo punto Possiamo anche raggiungere Pratopoli Allora Andiamo qua giù Ah Ciao Fali No No Sì No Sì Sì Ok Ciao Non mi interessa fare Una conversazione Percorso 2014 Un allenatore Da sfidare Allora Mandiamo davanti Vaniglia Non peraltro Ma perché non so Il Pokémon Che utilizza Là Dietro di te Cosa c'è Mi sono anche votato Perché Non lo so Chingling Psycho Mi sembra Sì Quindi usiamo Morso Esatto E' super efficace Chirlia Usiamogli un morso Mi hanno mandato A capo anche Chirlia Sala Le lamo buono Per catturare Qua un Pokémon E spostarci Nella parte Quaggiù Credo che sia Un altro Percorso Anche per avere Un Pokémon Di tipo acqua Nella nostra squadra Quindi proviamoci Io ho tre Tettativi In questo Percorso Ovviamente Le voglio usare Due qui E uno Nel Nell'erba normale Vediamo un po' Non abboccano Ok uno Vediamo di nuovo Non abboccano Perfetto Allora andiamo Sull'erba alta E il primo Pokémon Che incontriamo Nel percorso 214 E' Una Hondura A livello 24 Non male Non male Usiamo gli azioni E vai La Nazaruk Challenge Quindi Boh Non lo so Avremmo tentato Di catturare Non saprei Proviamo a Ci chiamano un altro L'ho usato Boat E' scappato Non mi ha dato Il tempo Di catturarlo Comunque Un Graveler Però abbiamo Già Geodude Quindi non possiamo Catturarlo Vediamo un po' Tuttuttum B-A-B-B Pokémon selvatico Geodude Di nuovo Quindi Niente E L'ultima Poi la prossima La Cioè la La prossima volta Tenterò di Di prendere Qualcos'altro Un Andor Di nuovo Stavolta Non voglio lasciarmi Sfuggire In questa occasione Utilizzerò direttamente Una Megaball Così random Niente Smog Megaball di nuovo Niente Megaball di nuovo Niente Scommenti che ora Utilizzazione E fuga Guarda E invece E invece no Usiamo una Curable No Ah si Smog Toglie Non mi ricordavo Buato Ovviamente Allora A questo punto La parte numero 13 Della Nazareth Challenge Termina qua Io come al solito Vi auguro Una buona giornata Spero che Il video vi sia piaciuto Votate Commentate E iscrivetevi Un ciao Da 78 Ciao ragazzi Ciao